Buongiorno, ben ritrovati su Uncine. Allo sbaraglio, oggi vediamo come realizzare la mantellina con sette spicchi, adesso ve la rimetto sotto la camera, vedete, cioè questa è la parte interna della mantellina, sette spicchi perché appunto è lavorata in sette sezioni, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ed è un progetto diciamo adatto per esempio per ricicli. Riciclare filati di lavorazioni precedenti, io qui ho cercato di cambiare filo all'inizio giro, però ciò non toglie che magari la possiate fare multicolore, quindi avere delle righe meno definite, quindi aggiungere direttamente il filato appena ci finisce uno di un altro colore. Io l'ho fatta appunto molto semplice, lavorata con una maglia alta e la catenella e poi al fondo, vi faccio vedere questo è il gomitolo con cui faremo il progetto, l'ho rifinita con dei ventaglietti e delle maglie basse. Il bordo diciamo è relativo, cioè la decorazione finale relativa, l'unica cosa che io sono andata a fare, che magari consiglio, è quella di contornare tutta la lavorazione con delle maglie basse, soprattutto appunto per ridefinire appunto tutti i contorni dello scialle stesso, della mantellina stessa. A voi appunto voi potete decidere poi come più vi aggrada la ridefinizione o meno del progetto. Allora vi faccio vedere l'avvio perché la lavorazione è tra le più banali e semplici che ci siano. Allora logicamente non posso partire con un anello magico, anche se magari utilizzando un filato più sottile lo si può fare tranquillamente. Vado a montarmi 5 catenelle, sono a 3, 4 e 5, chiudo il mio anellino e con una maglia bassissima. All'interno di questo cerchio vado a caricare 3 catenelle, una di separazione e poi vado a montare altre 6 catenelle, scusate 6 maglie alte, separate da una catenella. Perché abbiamo detto che noi andremo a lavorare in 7 sezioni, poi potreste farlo di 5 sezioni, io preferisco 7. Siamo a 3, 4, 5 e quindi ogni giro aumenterà di 7 maglie. Adesso vedremo come e siamo qui, le riconto un attimo, ho perso il filo, ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi manca l'ultima e siamo a 7. Ok? E questi sono i miei 7 spicchi, uno che è rappresentato dalle 3 catenelle, 2, 3, 4, a un attimo che riconto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E' arrivata anche l'amica, magari si affacerà, adesso salgo con 3 catenelle, volto il lavoro e nella stessa maglia vado a montare un'altra maglia alta, perché iniziamo ogni giro ai propri aumenti, catenella, vado sulla seconda maglia alta e vado ugualmente a montare 2 maglia alta, di nuovo catenella, terza maglia alta, 2 maglie alte sopra, 1 e 2, catenella di nuovo l'aumento qui, Allora, come vi ho detto, io questo progetto l'ho pensato per riciclare un po' di filati che mi ritrovavo in casa, è molto allegra, molto colorata, poi dipende molto dai gusti personali, io ho utilizzato ciò che avevo, quindi non ho fatto nemmeno tanto caso all'abbinamento dei colori, però appunto se volete farne qualcosa di più raffinato, sicuramente magari tinta unita sarà molto graziosa, molto più elegante, per andare a regalare ad una persona magari di una certa età, perché no, si usano ancora tanto, allora, e siamo al secondo giro, come abbiamo visto, le maglie appunto sono aumentate, se prima avevamo solo una maglia alta, adesso ne abbiamo due per ogni spicchio, adesso vediamo come aumentare i giri successivi, mi alzo di 3 catenelle, giro il lavoro, faccio un aumento nel nell'altra maglia, nella seconda che ho sotto, ok? l'aumento sarà fatto sempre alla fine di ogni spicchio, quindi catenella, nella prima maglia alta, lavoro un'unica maglia alta, nella seconda due, ok? 1 e 2 catenella di separazione, vado qui, maglia alta da sola, nella seconda faccio il mio aumento, quindi costruisco due maglie alte, 1 e 2 catenella, vado, maglia singola, aumento nella seconda, quindi quando io vado a lavorare, inizio sempre con una maglia alta, ma finisco con l'aumento, quindi qui una, sulla seconda vado a fare il mio aumento, 1 e 2 catenella, vado nell'altro spicchio, qui una sola, e poi 2 sulla seconda, ok? poi di nuovo catenella, faccio maglia alta sulla maglia alta e 2 maglie alte sulle prime 3 catenelle del giro sottostante, perché avevamo iniziato da questo lato, il secondo giro, ok? oppla, adesso mettiamo in piano il lavoro e vi faccio vedere, allora, questo è l'avvio, come vedete, gli spicchi si stanno formando, partiamo col terzo giro, proprio per farvi ricordare, per questo lo dovete ricordare, facciamo gli aumenti sempre alla fine dello spicchio, ho fatto nei miei 3 catenelle, giro il lavoro, vado nella catena, nella maglia accanto, e faccio una semplice maglia alta, nell'ultima, metto di nuovo il mio aumento, si aumenta ad ogni giro, mi raccomando, e per sette volte, quindi per ogni spicchio avremo il nostro aumento, finiamo questo giro, e poi vi faccio vedere come sono andata a montare appunto la decorazione finale, come ho detto la decorazione finale, io l'ho fatta così, però ognuno poi può decidere cosa andare a realizzare, seconda, e siamo qui, terza, c'è l'aumento, uno e due, c'è il mio braccialetto che batte, catenella, qui una maglia alta, sfido un po' di lana, allora l'unica cosa io ho utilizzato lo stesso tipo di filato in vari colori, cioè gli avanzi vanno bene, però non possiamo sicuramente utilizzare filati diversi o troppo diversi tra loro, io penso che per una riuscita discreta e quindi buona del lavoro, bisogna utilizzare a meno o filato dello stesso tipo o quantomeno della stessa grossizza, cioè il riciclaggio, riciclare va bene, però deve avere un senso perché poi si rischia che la lavorazione possa tirare, oppure al primo lavaggio il lavoro si sformi perché appunto non ha il filato lo stesso tipo di tensione, e quindi tutto il lavoro andrebbe sprecato, quindi secondo me è giusto riciclare però fili dello stesso tipo o quantomeno della stessa grandezza, ma anche della stessa composizione, perché non lo so se noi mettiamo dell'acrilico con della lana sicuramente al primo lavaggio la differenza si noterà, almeno a mio avviso, se così non è scrivetemelo, io non ho mai provato a mescolare filati di diverso tipo, lo proverò magari lo proverò, allora siamo arrivati a questo punto e il lavoro è molto ripetitivo, è un lavoro che lo si può fare davanti alla tv, rilassandoci, facendo un po' ciò che vogliamo, allora vediamo un po' come decorare, una volta giunta alla mia lunghezza ideale, vado a alzarmi con una catenella, entro nella prima maglia, e faccio una maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto 1-2, nel terzo punto a disposizione, vado a farmi un ventaglio composto da 5 maglie alte, io non sono stata tanto a guardare se il numero dei punti degli spicchi mi fosse giusto o meno, tanto alla fine è una semplice decorazione, quindi possiamo sfalzare un pochino, siamo a 5, poi cosa faccio, lo spazio della catenella per me vale un punto, quindi 1-2, nel terzo chiudo con la maglia bassa, e ripeto fino alla fine del giro, una volta giunti all'altro lato, vado a ripassarmi tutto il contorno, sono andata a ripassarmi il contorno con delle maglie basse, ne ho realizzate due per ogni, per ogni asticina di punto, e qui in mezzo ne ho messi tre, questo è quanto, spero che l'idea vi possa piacere, possa esservi utile per riciclare ciò che ci è avanzato durante l'inverno, se così è, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like, ci vediamo al prossimo tutorial, buona giornata da uncinetti allo sbaraglio. e qui ci vediamo al prossimo tutorial,